Mentre la Regione Campania festeggia il brillante risultato della ricerca che è riuscita ad isolare una nuova variante del virus e prosegue la campagna vaccinale includendo nei prossimi giorni anche forze dell'ordine e le polizie municipali, a Salerno ha ufficialmente preso il via questa mattina lo screening voluto dall'amministrazione comunale di Salerno, realizzato in collaborazione proprio con la Regione Campania e la Fondazione Ebris. Si analizza la popolazione scolastica con test molecolari al fine di verificare la presenza di eventuali positivi asintomatici. La prima scuola interessata dai test è stata questa mattina la elementare di Torrione, la Carlo Alberto Alemagna, compresa nell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II dove come ha affermato la dirigente scolastica Maristella Fulgione c'è stata un'adesione superiore alle aspettative nella decisione di sottoporsi al test molecolare. Anche un po' più alte delle mie aspettative visto che si trattano di bambini, si tratta di bambini e quindi immaginavo ovviamente una paura da parte delle mamme e proprio stamattina ho visto che anche le classi prime, quelle che io ritenevo un po' più in difficoltà i bimbi hanno eseguito il tampone con un personale altamente specializzato e anche molto delicato. Per ogni plesso orientativamente gran parte del plesso in presenza ha aderito e ne sono lieta anche perché mi è funzionale anche al tracciamento in casi di quarantena, di segnalazione al dipartimento di quale è la situazione. Ovviamente sono esclusi quei bambini che stanno in quarantena e quelli che sono appena rientrati oggi dalla quarantena perché l'hanno eseguito da pochissimi giorni. Stranamente molto più alla scuola primaria, un po' più resistenti ma sempre con un numero interessante alla scuola secondaria. Bimbi coraggiosi e per niente impauriti dal test si sono sottoposti al tampone effettuato da infermieri specializzati in un apposito padiglione allestito all'interno dell'edificio scolastico. La campagna, come ha ricordato l'assessore alla scuola Eva Vossa, proseguirà domani anche in altre scuole. Lo screening infatti interesserà la media Monterisi, il plesso della Matteo Luciani e le elementari Mazzetti ma ancora non è stato stilato però il cronoprogramma definitivo di tutte le sedi scolastiche interessati dallo screening. Non è stato ancora pubblicato anche perché questi primi giorni saranno un po' di rodaggio per cui anche se c'è un calendario però lo stanno comunicando alle scuole di volta in volta almeno in questi primi giorni. Quindi la prossima scuola sarà Monterisi Mazzetti perché come abbiamo più volte detto i criteri per procedere a questo screening sono stati innanzitutto la popolazione scolastica, il numero della popolazione scolastica. Infatti Giovanni Paolo II è la scuola che ha maggior numero di alunni iscritti, si tratta di 1187 e quindi siamo partiti da qua e l'altro criterio è la territorialità, ossia domani per esempio questo istituto comprensivo non potrà essere completato oggi perché ha diversi plessi e rimarrà fuori il plesso Luciani e a questo punto si farà domani e a questo plesso Luciani saranno abbinate altre due scuole che fanno parte della Monterisi, altri due plessi che sono là vicino.